Mi sento come se mi avessero strezzato le budella. Spanciato. 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 Sì. 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 Grazie a tutti Trova il modo di salire in cima allo State Building e di contattare il gruppo della Resistenza Cerca un ascensore, scale, qualsiasi cosa Il livello di radiazioni dovrebbe essere accettabile in cima al grattacielo La tua voce, Anya, il suono più bello che esista Chi è sottile? Chi è sottile? Chi è sottile? No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.